Musica Anche oggi c'è sempre il nostro inviato Sky, Sky di Simone. Siamo, Simo, 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 è la linea. Oh ragazzi, una prossima volta stamattina, siamo, dove siamo? Siamo in quel di Rossano, dove la partita è appena conclusa. Una bellissima giornata, sono del lente, siamo donzati e non vi voglio svelare il risultato. Andiamo a capire per il successo oggi. Oggi chi vi porterò? Madè, Pai Guerra, Spiga, Capitano Ambrini, Di Perrao, Gatti Doro, andiamo a vedere. Come potete vedere, oggi il migliore in campo Sky è Andrea Fozzi. Qui non è arrivato. Una grande prestazione, un quasi gol, un asso, un mezzo asso, un altro asso. Un quasi gol della vittoria! Com'è andata la partita? La partita è stata dura, un campo pessimo, un po' il risultato. Un campo in condizioni pietose, che hanno un po' di riprendersi centrocampisti, tecnici, qualità e quanti tanta roba. Quindi abbiamo regalato il primo tempo, poi abbiamo... Si è fatto, non manco. Ok, ma un po' di ricorda. Senti ragazzi, insomma, la partita come è andata? A forza c'è un po' la restruzione, cioè... Com'è andata? Possiamo vincere? Possiamo vincere, possiamo sfranz vincere, abbiamo finito il primo tempo, non so esagerare, 4 a 1, perché gli abbiamo regalato 2 gol. Merda, vincere! Su due azioni che hanno fatto 45 minuti, e hanno fatto due gol di merda, noi ce ne stiamo mangiati uno con lui. Poi siamo riusciti a segnare con Francesco, ma il risultato Simmo? Il risultato è 2 a 2. Allora, partivamo 1 a 0, una disattivazione, ci siamo pareggiati su 2 a 1, hanno fatto ancora il 2 a 1, poi con grande coraggio siamo finti avanti, mezzo al fango, mezzo a merda, da quanta merda, guarda, quanta merda è in campo. Ci siamo ripresi, alla fine ne hanno fatto un 2 a 2. E poi? Alla fine, allo scadere stavo per fare il 3 a 2, però va bene così. Un punto di cascina, in campo. Prendiamo un po' di pieno, in fumo di pieno, in fumo di pieno, in fumo di merda, e poi lo facciamo. Domenica il campo è riparto in funghi, dai. Ciao ragazzi, partimo. Ciao. 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 Ciao.